La quarantena volontaria di un senatore leghista fa slittare il voto su Matteo Salvini. L'emergenza coronavirus costringe il rinvio al 10 marzo della riunione della Giunta delle Immunità di Palazzo Madama per discutere della richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro degli interni per la vicenda Open Arms. Il Tribunale dei ministri di Palermo contesta a Salvini l'ipotesi di sequestro di persona aggravato e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda di migranti a bordo della nave della ONG Spagnola sbarcati dopo alcuni giorni a Lampedusa nell'agosto del 2019. Si tratta del terzo caso in un anno contro Salvini. La procura di Catania ha presentato, dopo il sì del Senato a metà febbraio, la richiesta di fissazione dell'udienza preliminare per il leader della Lega per il presunto sequestro di 131 migranti trattenuti alla fine di luglio per quattro giorni a bordo della nave Gregoretti. E all'orizzonte potrebbe esserci anche l'accusa di difamazione dopo la querela di Carola Rachete, comandante della Sea-Watch 3, forte della sentenza della Cassazione, secondo cui ha rispettato il dovere di soccorso.